Che cosa ti aspetti eccetera e quindi non preoccuparti che la prossima volta sarà questo. Bene, Claudio, a te il cambio Italia 1 Greca RU, il F1N di Vitego. Sì, vai con il 751? Sì, positivo. Bella, bella la modulazione. Hai il suo microfono? Sì. Ciao, la prate a tutti, tanti auguri, ciao, cuore il seta? Il barato portatile, cuore il seta? Sì. Sì. Poi, poi, senza ragazzi, si giocava a noi. Sì, è proprio a tutti che stiamo. Questa. Sta tutto pieno un po' ovunque. Mi fa piacere questo. Va bene, è di fortissimo, 9 più 20. Ma anche Maurizio, la punta di 9 più 20. Sì, è tutto a posto, Maurizio. Sì, io ho l'HLA 300, ho la Meritron e ho l'Expert come amplificare. Poi ho un altro animatore autocostruito che per noi... Si torna, c'è un negozio di pasta fresca da un po' di anni. E diciamo che lei ha imparato a far da mangiare quando era bambina, un bel po' più giovane. E ci ha insegnato mia moglie, e a mia moglie ci ha insegnato sua mamma e così via. Quindi è roba che ha lo stesso gusto di quella di casa. Ma anche la stazione con Maike, Maike e il corso. Ok, allora ci sono sempre Maike, Maike off e bene portato 5 nomi, che per si può bene. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.